Buongiorno in questo video io sono Metti, siamo con Lorenzo a reagire al nuovo trailer appena uscito di Pokemon Legends Zeta Legend? Non so perché Zeta trattino A, però questa cosa va capito Avranno fatto qualcosa di buono per vincere Palworld oppure Palworld rimane il top player e ancora il Pokemon Combat Questa è proprio la Questa è la domanda importante per Youtube chiaramente Dai 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 divertiamoci Vai ci siamo ci siamo Operativi? Operativo? Vai Operativi Vai Che poi non so che cazzo c'è scritto Ehi Ehi So Ehi No io lo so leggere gli annon Ciao signordani Riesci a leggere tu l'ora Non l'ho mai saputo di leggere O Eime dovrebbe essere quello O Eime quindi quella è una M E la Z e la S è su Eime Il Pikachu che fa tipo così con le mani E tipo posizione Franky Vabbè Non è molto chiaro E poi c'è il punto interrogativo Vabbè Classicone Parapam 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 Allora Confidential Confidential Allora Cos'è Urban Development Plan City Avvice no beautiful coesiste Between people e pokemon Ma? Non si capisce nulla Sì Sono concordo Perché vedi sia il passato che il futuro Qua non Solo che Allora Qua vediamo qualche pokemon Facciamo poi il zoom sui pokemon Che ci fanno vedere al volo Perché secondo me saranno importanti Anche sul discorso di poke Che schiaturiamo qua dentro Va bene Già capito dragon Eri sono felice Geridos sono felice Eh Aspetta zi Non hai capito Aspetta Piano urbano Piano urbano No Ho aperto la chat su coso Ma mannaggia a me Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Aspetta, 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 aspettalo Capiamo un attimo una cosa Allora Io vorrei trovare prima indietro Prima Andiamo qua Tu mi hai detto questa qui è la torre di Unima Sei sicuro? A me pare più quella di Kalos Mi sembra il gran centro commerciale di Kalos Al centro Quindi mi sa di quella mappa lì Kalos Non so se tu te la ricordi Come era la mappa Vedi c'era anche i cinque I quartieri I quartieri Bravissimo, sì Sì, sì, sì Infatti è Poi c'è Lumino City Urban Development Plan Quindi ci siamo È Kalos, è Kalos È Kalos per forza Pokémon Legend Poi c'è la Z Io la A non ho capito Perché la Z è Zygarde E va bene E la A? La A che c***o è? Mi sfugge un Pokémon leggendario Voglio non lo so Illuminopoli C***o sì, quella là Mi sfugge un Pokémon leggendario Con la A A parte Archeas Allora Questa cosa non l'ho capito Perché in Scaletti e Violetto Abbiamo il futuro E il passato So che il trailer Inizia con una cosa Super false Dell'hyper future Stile Mirai Però non ci siamo Con la generazione Quindi non capisco Però sarebbe interessante Da capire Se collegano anche queste cose Passato e futuro All'interno di un contesto Perché tu ricordati che Archeas dovrebbe essere Il passato di Diamante e Perla O comunque più o meno Siamo lì Vi sinno Tuttavia La prima volta che noi vediamo Nelle serie principali Il passato e il futuro Sono negli ultimi giochi Appena usciti Il Pokémon primordiale Il Pokémon futuristico All'interno della stessa città Che ha nomi Raidon e Coraidon Quando è uscito L'anno prima Archeas Quindi magari Il discorso futuro e passato Le dimensioni tra futuro e passato Le stanno collegando In qualche modo Ed è interessante Se ci fanno sopra Una Lord del genere Cosa che Game Freak Non lo fa perché Era bastarda Però Non sarebbe male Se fanno una cosa così Perché potremmi fare Potremmi abbastanza Segozi Su questa cosa C'è un pochiemoncini C'è un alucia Dragonair Geridos I Magikarp Tutti sono particolarmente Privileggianti Pokémon di sesta Ho visto qualche Pokémon di sesta E tutti i vecchi Qua c'è il tizio con le spade Mi sta sul cazzo Il tizio con le spade Il Liviform Si chiama Liviform Quella Folletto Aiuto Silvium Non lo dimenticherò mai Eracross e Pinsir Onyx Ho visto un bel Sprout Volante Volevo vedere se hanno già Spogliato qualche forma Particolare Leggende Pokémon Z Quei bastardi L'hanno chiusa proprio Coltì Cioè potevano andare Qualcosì in più Maledetti Anche perché vorrei Un gioco che mi faccia dire Wow dei Pokémon Ragazzi Non sto scherzando Avevo dato dei leak Ma sono uno più fake Dell'altro Già ve l'anticipo Sono uno più fake Dell'altro Però proviamo a ipotizzare A immaginare Ma il finale Così è giusto per estetica Sta foglio Le mega evoluzioni Ah ok Ti ha detto Le mega evoluzioni Infatti per quello Stavo pensando Non mi pare Una cosa per estetica La A Ha un pattern Stile erba Ma allo stesso tempo Se le guardi bene Possono sembrare Anche scagli di drago No la A Sono comunque due lettere diverse Cioè i pattern Entrambe sono diverse E magari Sono diversi Io ti dico Non ne ho idea Infatti Io lo sapete Ormai cerco di non Chi ci seguiva tanto Cerco di non emozionarmi Più per il Pokémon trailer Perché c'è un problema Che riguarda il gameplay Sto cercando di non Parlarne Diciamo che vorrei evitare Il concetto Del gameplay Perché non abbiamo visto nulla Quindi non voglio esprimermi Però cerco di non emozionarmi Perché poi rimango scammato Raga capito Sì sì raga Perché purtroppo Mi Pokémon Piace tanto come i Digimon Ok Digimon paradossalmente Ho un accollo Sui giochi Che tre ne sono usciti Che mi piacciono davvero tanto E quei tre li gioco sempre I Pokémon in realtà Mi piacciono tutti Anche quelli che dico Che sono una merda Perché pure per me La quinta La settima Sono per me Diamo le peggiori A livello di giochi Dopo di giochi Per come l'hanno realizzati Mi hanno detto un cazzo Sono quelli che ho droppato La quinta l'ho droppata La settima Sono arrivato alla Lega Però la quinta l'ho droppata Prima della Lega Dopo che mi hanno fatto Tante ferite nel cuore Non lo so Archeas mi ha fatto emozionare Mi ha fatto sperare tanto Archeas sono stato felice Di giocarlo Quindi sapendo che Questo qui è da Archeas Sono più felice a sperare Per fare Le peggiori Grazie.